Ragazzi e ri buonasera Cioè in pratica Auxilio se ne va pure Sabatini arriva Conte Carta bianca Sugli acquisti Era ora Era ora Noi tifosi non avevamo i coglioni così Era ora Dobbiamo cercare di formare una squadra Per andare a vincere sta Juve Era ora ragazzi Era ora Dai Sabatini mi piace Devo essere sincero Sabatini con le L'Oreali E Antonio Conte insomma E Zanetto un po' più avvicinato Insieme a essere pure un po' società No quei coglioni lì Che non sanno fare un cazzo Ci vuole un allenatore con i coglioni all'Inter Era uno che li bacchetta E Antonio Conte attualmente è il numero uno Mille volte meglio di Simeone lo faccio io Io voglio Conte Io sono per Conte E poi ognuno per Conte Vabbè io sono per Conte Mi piace proprio un casino a me Insomma è carta bianca sul mercato Speriamo bene Era ora Era ora perché non si può andare avanti così ragazzi Siamo troppo scarsi Giocatori troppo scarsi Siamo rotti coglioni noi tifosi Andare a fare viaggio adesso a sinistra Per poi vedere questi giocatori di merda Che non hanno nemmeno la maglia dell'Inter Nemmeno la sudano Con Antonio Conte vedi come corrono Sono veramente contento Voi come la pensate Commentate qua sotto Voglio sapere meglio Simeone o Antonio Conte Per me meglio Antonio Conte Un saluto a tutti ragazzi Ciao E buonanotte